1 su 3, vai 2 su 3 Adesso arriva Jonathan nella sbaglia, puntualmente Ma poi cosa vuol dire come sono i tedeschi? Minecraft sono quadrati Hai vinto Twinkie, Leo ti dà Grazie per aver giocato con noi Hai ragione, hai ragione Non sono in due Chi è che vuole giocare con noi? Raiden Raiden